Il patrimonio artistico lucano Abbiamo pensato questa operazione di promozione del patrimonio artistico lucano in occasione del periodo natalizio. È un Natale non ordinario, quello del 2020. Viene durante un periodo triste, un periodo difficile per l'intera umanità e portare il presepe di Guido Strazza, un presepe in cui la luce è l'elemento fondamentale dell'opera artistica. Dentro la Galleria Nazionale Arte Moderna di Roma è un'occasione per lanciare un messaggio agli italiani e al mondo di speranza, di speranza che attraversa queste tenebre nella luce del presepe e quindi della fede, ma anche nella luce dell'arte, dell'arte contemporanea. E l'arte è l'elemento che tiene insieme questa operazione di promozione che l'APT con la Galleria Nazionale sta realizzando e lo ricordo con il Museo del Presepio Vanni Schaiviller di Castronuovo Sant'Andrea. L'arte è l'elemento che unifica questo percorso. Lo abbiamo visto anche in questi mesi in cui l'Italia è stata il faro del pianeta in questo momento di lockdown globale, quando è proprio il patrimonio artistico e la nostra cultura che hanno rappresentato l'elemento di coesione e di fiducia verso le prospettive che possono aprirsi anche in periodi così bui. La manifestazione che noi realizziamo a Roma è la simbolica accensione della luce del presepe Blu Notte nell'atrio di ingresso della Galleria Nazionale. Questa manifestazione vede anche un'altra forma artistica, la musica. Abbiamo scelto per accompagnare questo momento simbolico l'esibizione di un quartetto d'archi, il quartetto d'archi dell'AMS Matera, che eseguirà un'opera realizzata per Matera 2019 con committente la Fondazione Matera Basilicata 2019 dal maestro Georg Friedrich Haas, che è uno dei massimi compositori di musica sinfonica contemporanea. Quest'opera l'abbiamo scelta per due motivi. Uno perché è importante che dal 2019 di Matera e della Basilicata possa continuare a distribuirsi un messaggio di speranza e di valore legato alla cultura, alla creatività e all'arte e perché quest'opera era stata scritta, è stata scritta, per essere eseguita nell'oscurità. Allora il passaggio dall'oscurità in cui tutti i sensi si amplificano alla luce dell'accensione del presepe è il passaggio di augurio e di buon auspicio che la comunità culturale lucana fa agli italiani attraverso i nostri tesori artistici. L'esperienza dell'arte in Basilicata è un'esperienza di viaggio emozionale, avvicinarsi, allontanarsi dalle grandi direttrici di percorrenza, dalle grandi strade a quattro corsie e inerpicarsi sulle strade che portano in paesaggi inediti, in paesaggi che sorprendono, che tolgono il fiato, fino a scorgere sulle cime delle colline dei borghi antichi fatti di pietra e di mattoni, di tegole e di cotto. È un'esperienza da vivere fino ad entrare, lasciare la propria autovettura ed entrare in questi vicoli, trovare degli edifici, dei palazzi, delle chiese antichi, antichissimi e dentro questi piccoli edifici scoprire che sono custoditi dei tesori d'arte inestimabili e inattesi. È questa l'esperienza dell'arte in un contesto come quello della Lucania. Andare in borghi come Castronuovo, Sant'Andrea, Palazzo San Gervasio, dove ci troviamo oggi, o Moliterno, o anche la stessa Maratea, Matera e Potenza, è un'esperienza inedita che raccomando davvero a tutti e che ci arricchisce non soltanto del contenuto artistico, ma, come dicevo prima, del contenuto emozionale del viaggio. Sono quasi 40 anni di attività che ha reso possibile questo numero tanto alto di opere. Quando ero al seminario, come rettore, abbiamo deciso di fare un'operazione anche artistica e quindi abbiamo cominciato a fare delle mostre, avevamo saloni molto grandi. Nel corso poi degli anni ho conosciuto molti artisti, andavo di persona a Milano, a Firenze, ad Angona, a Loreto e così via. e quindi ho avuto la possibilità di conoscere tanti artisti e anche la possibilità di avere talvolta qualche piccolo, diciamo così, volevano anche essere, diciamo così, giustificati per il dono. e tante altre volte invece mi hanno completamente regalati tutti questi quadri. Sono un segno di straordinaria generosità da parte degli artisti e allora io ho fatto altrettanto per loro perché messi insieme sono un patrimonio straordinario. A partire dal 2000 noi abbiamo cominciato a fare questa ricerca dell'arte sacra. Fino al 2000 io non ho avuto questa attenzione all'arte sacra. Dal 2000 in poi ho conosciuto tutti questi artisti e tutti avevano piacere a fare questi quadri, a fare queste opere e in parte a regalarmi e in parte avevano bisogno anche di un costo. Sono, diciamo così, abbiamo allestito queste sale grazie anche alla possibilità che abbiamo avuto da parte della Diocesi di Potenza. Io sono il vicario e lascerò tutte queste opere alla Diocesi perché è un patrimonio su cui ho lavorato, ma non per me stesso, insomma per arricchire l'arte sacra. In un convegno che è stato fatto tempo addietro nel mese di novembre il relatore a un certo punto, siccome era stato mio alunno, dice se Don Vito non ci fosse, non ci sarebbe stata anche questa importanza per l'evangelizzazione. Dice oggi attraverso le opere d'arte si può veramente evangelizzare e questo è un segno straordinario, cioè questo relatore mi ha colpito nel dirmi questo elogio, però a ripensarla i misteri dell'arte cristiana sono tratteggianti, sono belli, sono moderni e quindi noi possiamo sicuramente evangelizzare dai bambini ai giovani agli anziani il mistero di Cristo, il mistero della nostra religione cristiana. Tutto questo mi dà orgoglio, ma al nostro tempo mi dà anche un po' di timore perché ho una certa età e vorrei vedere che tutto questo fosse praticamente messo per bene. Nel 2008 nasce questa idea visionaria da parte della Presidenza dell'Aggiunta regionale di Basilicata di creare un percorso legato all'arte contemporanea e all'arte natura all'interno del Parco Nazionale del Pollino. Vengono chiamati artisti di caratura internazionale come Capur, Carstenholler, Giuseppe Penone e poi altri artisti più giovani come Claudia Losi. Ognuno di loro ha interpretato una parte di questo territorio restituendo in chiave contemporanea una lettura di quelle che sono le peculiarità delle aree interne del Parco Nazionale del Pollino. In questo caso possiamo parlare di un viaggio spazio-temporale. Capur decide di realizzare un'opera che potremmo definire geologica, una visione di questo territorio che parte dall'interno. Quindi attraverso questa installazione artistica ci proietta all'interno del cuore della terra per farci vedere quello che normalmente siamo abituati a leggere e a vedere soltanto in superficie. Abbiamo creato una nuova visione del territorio e abbiamo dato l'opportunità a una nuova fascia di pubblico di poter vivere, camminare e osservare questi territori. Quindi un target completamente diverso, un target che non arriva soltanto dalle regioni limitrofe ma arriva da tutta l'Italia e possiamo dire dall'Europa e dal mondo. Un target medio-giovane e con un livello di istruzione medio-alto. Quindi sicuramente ha cambiato molto tutto quello che è il flusso turistico all'interno dell'area del Parco Nazionale del Pollino. Ma non solo, ha dato una nuova chiave di lettura ai territori. Lavorando con l'arte natura, con l'arte partecipata, abbiamo dato la possibilità ai cittadini di essere parte integrante di questi percorsi artistici e quindi di offrire loro la possibilità di sentirsi parte di un progetto che non guarda soltanto ai comuni ma guarda al mondo con una visione diversa proprio di quelle che sono le realtà presenti all'interno di questi territori e soprattutto guarda al mondo attraverso nuovi occhi. Arte Pollino ha avuto il piacere e l'onore di far parte di questo grande progetto di Matera 2019, Capitale Europea della Cultura e ha cercato di lavorare su quelli che erano i percorsi intrapresi sin dal 2008. Nello specifico abbiamo cercato di collegare le aree interne del Parco Nazionale del Pollino con la città di Matera e con uno sguardo verso l'Europa. Lo abbiamo fatto coinvolgendo una rete di partner che erano vicini a quelle che sono le nostre sensibilità, al nostro lavoro e poi abbiamo cercato di scegliere dei partner europei, in modo specifico l'Albania che da sempre è legata con il territorio del Parco Nazionale del Pollino. Il progetto è stato un progetto molto articolato, diviso in varie fasi che ha avuto un filo conduttore, la sostenibilità in primis e poi la pratica del cammino come modalità di conoscenza, di incontro e di scoperta. All'interno delle varie azioni abbiamo coinvolto artisti italiani e stranieri che hanno saputo reinterpretare ognuno attraverso la propria sensibilità una parte, un pezzo di questa cartografia corale che abbiamo voluto mettere in piedi. Il progetto CART ha visto il coinvolgimento di varie figure e ognuna di loro ha lavorato su un tema specifico quindi abbiamo lavorato sul cammino attraverso i cammini d'autore con partner Il Circolo dei Lettori di Torino abbiamo lavorato su questo connubio e con questo legame con l'Albania attraverso questa esperienza di Art House legata ad Adriampasi e abbiamo lavorato con lo studio Orta di Parigi e in modo specifico con loro abbiamo lavorato sulla biodiversità e su tutti quelli che sono i prodotti del nostro territorio e inoltre abbiamo lavorato alla pubblicazione finale di due volumi uno legato a un cammino d'autore con la scrittrice Elvira Doness e con l'illustratore Marco Cazzato e l'altro è stato il catalogo che ha racchiuso tutte quelle azioni che il progetto CART ha messo in piedi all'interno di Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019 La collezione Brando di Maratea è nata nel 1985 dopo a seguito dell'acquisizione da parte del Ministero dei Beni Culturali delle Opere di Angelo Brando noi abbiamo un nostro concittadino illustre che è Angelo Brando che è nato a Maratea nel 1878 e che ha frequentato la Reggia Accademia delle Belle Arti a Napoli ha avuto grandissimi maestri come Morelli, Volpe e il Moliternese tedesco in questo lui ha eccelso in tutte le attività relative alla formazione nell'ambito artistico-culturale tant'è che poi alla fine è diventato insegnante dalla Reggia Accademia delle Belle Arti ha eseguito tantissime opere dedicate prevalentemente alla moglie Eugenia e alla figlia Cordelia la sua capacità di rappresentare scene di vita con la maestria e i colori di Tiziano, il rosso tizianesco lo hanno fatto un artista di elevato spessore nei suoi tempi tant'è che le sue opere venivano commissionate a livello Reggio ma anche il Cardinal Casimiro Gennari ha voluto un suo dipinto e lo ha tenuto a Roma lo ha tenuto a Roma tenendo conto che il Cardinal Casimiro Gennari che è quello che è anche lui di Maratea che ha dato vita al codice di diritto canonico era dopo Pio X il cardinale più importante della Curia Vaticana Palazzo del Lieto Pinacoteca Angelo Brando di Maratea è l'ultima più giovane istituzione museale della Direzione Regionale Musei Basilicata la Pinacoteca è stata inaugurata ad agosto dello scorso anno nell'anno di materia capitale europea della cultura Angelo Brando è un pittore fine dell'Ottocento, primi del Novecento nato a Maratea e formatosi a Napoli dove poi è vissuto ha studiato all'Accademia di Belle Arti è diventato successivamente docente un docente molto bravo, amato dagli studenti tanto è vero che alla fine della sua carriera didattica il Ministero della Pubblica Istruzione gli conferisce una onorificenza al merito proprio per le capacità didattiche che aveva Angelo Brando questa collezione è stata acquisita dal Ministero per i beni culturali anni fa e allestita a Palazzo del Lieto Palazzo del Lieto è un edificio storico di Maratea un ex senodocchio un ospedale per poveri voluto da un benefattore costruito da un benefattore e poi donato alla città Giovanni del Lieto nel Settecento la collezione consta di 34 opere acquistate dal Ministero dei beni culturali dall'unica erede di Angelo Brando la moglie del nipote del pittore altri dipinti e altre opere sono state date in comodato d'uso dal centro culturale Iosemario Cernicchiaro dal comune di Maratea e dalla professoressa Tina Policiano che aveva un rapporto di parentela con gli eredi di Brando la caratteristica, l'originalità di questa piccola ma graziosa pinacoteca che io invito a venire a visitare e la musica la musica la colonna sonora il maestro Damiano D'Ambrosio anche lui un lucano come Angelo Brando ha donato alla pinacoteca una partitura molto bella sono colori di Brando sono nove brani liberamente ispirati a nove opere che sono esposte nel museo quest'estate c'è stata la prima esecuzione assoluta con la prima esecuzione assoluta dei solisti dell'orchestra di materia della Basilicata con la direzione artistica di Giovanni Pompeo dell'AMS è nato un cd prodotto da Fare Life dove ci sono tutti i nove brani e in più nel booklet questa bella questa grande novità e importante novità un testo una guida all'ascolto del professor Dinko Fabris che è un musicologo di fama internazionale un massimo esperto diciamo in campo nel campo della musica e nel booklet in questo booklet che illustra un po' tutta la storia della pinacoteca della collezione c'è questo testo molto interessante la pinacoteca è una pinacoteca stagionale una pinacoteca che apre come prevede il regolamento del nostro ministero che apre nei mesi estivi ed è una straordinaria opportunità per il turismo il turismo culturale inoltre proprio ieri sono iniziati iniziati i lavori a piano terra per recuperare uno spazio destinato a mostre temporanee anche questo è un fatto importante per un museo che rinnova il proprio interesse anche attraverso delle mostre temporanee di qualità la pinacoteca nasce anche con un supporto un sostegno significativo del comune di Maratea sento di doverlo dire perché grazie alle unità del servizio civile messe a disposizione dal sindaco di Maratea Daniele Stoppelli siamo riusciti già l'anno scorso ma anche quest'anno ad assicurare un'apertura continuativa anche i giorni festivi anche il giorno di Ferragosto del museo e ovviamente al sindaco e a tutta la città di Maratea il grazie per questa collaborazione il progetto di istituire una pinacoteca dedicata ad Angelo Brando a Maratea nacque nel 1985 in occasione di una mostra per il trentennale della scomparsa del pittore su proposta del centro culturale Iosemario Cernicchiaro sono passati anni poi il museo è stato realizzato grazie all'impegno alla determinazione della direttrice del pollo museale della Basilicata la dottoressa Marta Ragozzino è un periodo veramente difficile non solo per la nostra comunità per la nostra regione che sta vivendo questi momenti difficili sia dal punto di vista culturale che turistico io credo che bisogna ripartire dalla cultura e dal turismo per una nuova prospettiva di sviluppo non solo locale che abbraccia i piccoli borghi ma anche e soprattutto per la nostra regione abbiamo investito tanto anche in arte contemporanea qui ad Aliano grazie al professor Appella abbiamo realizzato il museo Paul Rousseau dell'espressionismo astratto americano e stiamo puntando sulle grandi mostre dei Calanchi insieme alla rete ACAM che comprende il comune di Aliano Castronuovo di Sant'Andrea Mondemurro e Moliterno io credo che dai piccoli borghi deve nascere una nuova prospettiva di sviluppo in termini culturali e turistici noi qui stiamo lavorando veramente tanto in questa nostra piccola comunità mettendo in rete tutto il sistema museale ma stiamo ampliando anche l'offerta turistica di Aliano a partire dalla imminente realizzazione del centro di accoglienza turistica al museo della maschera e del carnevale storico di Aliano e al museo storico di Carlo Levi opere tutte finanziate con un altro progetto approvato nell'ambito della strategia nazionale delle aree interna è proprio quella di mettere in rete tutto il sistema museale di Aliano le festività natalizie le vivremo in un tema di sobrietà così come abbiamo fatto per la festa del nostro santo patrono San Luigi Gonzaga naturalmente non mancheranno le luminarie che è un segno importante in questo periodo difficile per la nostra comunità per la nostra regione per la nostra nazione e io credo che comunque piccole cose vadano comunque fatte per poi prepararci al meglio dopo la fine di questa pandemia di riprendere tutte le attività culturali che di fatto sono rimaste sospese dal premio letterario Carlo Levi al festival di paesologia La Luna e Calanchi ai grandi eventi che ogni anno qui si facevano ad Aliano e quindi io mi auguro quanto prima di riprendere le attività culturali sia in ambito locale sia in ambito regionale in ambito nazionale e soprattutto riprendere i contatti internazionali che sono rimasti in sospesi di cui il gemellaggio con Mosca con gli occhi di Levi che abbiamo intrapreso l'anno scorso e anche iniziative culturali con la nostra vicina Albania